Arriva l'Arca di Noè per i piccoli pazienti della pediatria dell'ospedale di Caserta, un'installazione di arte contemporanea e design grazie al progetto dell'illustratore Giancarlo Covino donata dai soci del Rotary Club Caserta Luigi Van Vitelli. Il Rotary è presente sui territori, per i territori e con i territori per esprimere le sue attività di service e quindi oggi inauguriamo questa importante installazione che richiama l'Arca di Noè e che cerca in qualche modo di rendere più lieve la permanenza dei piccoli pazienti qui nell'ospedale e nel reparto di pediatria. Una narrazione quasi salvifica, un messaggio di ripartenza basato sull'idea che l'arte sia terapeutica e che la creatività contribuisca in maniera significativa alla umanizzazione delle cure. L'umanizzazione non si riproduce soltanto architettonicamente, però sempre più vicino ai bambini perché si possono distrarre, hanno un disagio minore, cerchiamo di fargli avere un disagio minore considerato che non stanno con le loro abitudini familiari. Quindi penso che questo sia giusto. La collaborazione sinergica con il mondo delle associazioni, afferma il direttore generale dell'azienda ospedaliera Gaetano Gubitosa, è fondamentale per migliorare l'accoglienza e l'assistenza ai piccoli pazienti. Da qualche giorno come ospedale noi siamo covid free, non abbiamo più pazienti covid positivi e quale iniziativa più bella? Quella di una ripartenza proprio dai più piccoli. Gli fa eco il sindaco di Caserta, Carlo Marino. Può essere un elemento di ripresa, di ripartenza, ma soprattutto rilanciamo il diritto alla salute, il diritto alla vita.